Sono Laura Anticchi salve a tutti vedremo oggi come visualizzare delle diapositive con uno script Monitor Control LimTV. Vi faccio vedere il risultato. Clicco su Browse, Next e vedete che ho la visualizzazione delle diapositive in sequenza. Vediamo ora come fare. Predispongo la mia lavagna con la solita procedura. Cliccando sul terreno, crea, creo un cubo, ingrandisco il cubo, così può andare. Lo appiattisco con il CTRL SHIFT quel tanto che basta. Poi lo ruoto con CTRL R lo ingrandisco un altro po' sempre con il CTRL SHIFT lo alzo ora vado a dare un nome all'oggetto chiamerò MicroLearning Descrizione Monitor Control CTRL 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 LIM Tv Tv Do da subito i permessi condivido con il gruppo poi do a chiunque il copia il proprietario successivo modificare e copiare poi vedete voi quali permessi dare poi vado in texture e poi in contenuto nel contenuto vado a caricare le texture che corrispondono alle mie diapositive le texture le ho caricate andando in costruisci carica immagine e ho caricato quindi tutte le diapositive con questo sistema ho aperto l'inventario e ho selezionato tutte le mie diapositive caricate come texture che mi ritrovo in texture nell'inventario trascino le diapositive nel contenuto come vedete poi apro ho aperto un nuovo script che ho rinominato con il destro del mouse rinomina monitor control nello script ho poi incollato lo script che mi servirà per il monitor a control come quindi potete vedere vado in permessi vado a verificare di aver dato tutti i permessi tutti applica ok ora vado a selezionare la faccia seleziono faccia questa davanti e su questa faccia vado a mettere la texture faccio vuota così sono a posto sono sicura metto una texture da texture vado a cercare la texture numero 1 questa carico questa texture ok chiudo la mia finestra dello script ora ora vado a verificare se tutto funziona magari la texture vado a verificare di aver messo luminosità massimo già messo chiudo ora clicco sulla sullo schermo browse next e come vedete il monitor funziona ecco sto scorrendo le slide quindi questo è anche un ottimo strumento per la presentazione di diapositive con questa facilità di poter andare avanti e indietro nella monitor come vedete back next next ancora benissimo chiudo la finestra ora e vado a vedere in modifica se è tutto a posto per poi concludere questo processo quindi vado in caratteristiche tutto a posto oggetto generale i permessi sono stati dati bene perfetto quindi vado all'inizio mi riporto all'inizio ecco per avere l'interfaccia da cui era partita ecco ecco e sono arrivata alla prima diapositiva con il back ok chiudo e la monitor e la monitor che